ciao a tutti questa era una cosa che mi mancava erano ormai un po di mesi da agosto che non venivo più al mio amato parco a camminare e oggi sto cominciando insieme con la mia belva se riesco ad inquadrarlo dove la mia belva eccola vieni Argo vieni non vuole venire eccola 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 belva fermati fermati dai fatti vedere ciao ciao ecco qua approfittando che c'è il cane sto facendo anche la mia camminata perché da da gennaio si comincerò quasi tutte le mattine un giorno sia un giorno vediamo perché non sono stato disciplinato e si vede che sono diventato un chiattone quindi ricomincio io e spero di stimolare anche altre persone ad iniziare percorsi di movimento di camminate di corse e all'aria aperta che fa bene quindi con questo rinnovo i miei più sinceri auguri di buon natale a tutte le persone che hanno seguito i miei filmari della mattina che mi hanno dato tantissima visibilità e ma mi hanno fatto stare anche bene poi da agosto ho avuto mal di schiena ho trascurato un po e poi mi sono in pigrito e quindi ho capito che come dico sempre la perseveranza è quella che fa bene quindi ricomincio ciao a tutti camminate molto bevete molta acqua ma dopo natale a natale tutti ci abbufferemo di tutto ciao al prossimo filmato